Il Paradiso canto ottavo dal verso 67 in poi. Mentre facciamo questa lezione possiamo ascoltare il concerto per violino e orchestra in Re Maggiore di Ludwig van Beethoven, opera 61. Ecco, ci eravamo fermati proprio nel momento in cui si stava raccontando Carlo Martello, che è un re angioino, stava raccontando di come era destinato ad essere re d'Ungheria, re delle due Sicilie, ma poi morì. Allora, raccontando queste cose, spiega anche il motivo per cui gli angioini hanno perso il potere in Sicilia e fa riferimento al famoso episodio storico dei Vespri siciliani, ecco, qui raffigurati in questo dipinto. E' la bella Trinacria che caliga tra Pacchino e Peloro, sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga, non per Tifeo ma per nascente Solfo, attesi avrebbe i suoi regi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo. Allora, vuol dire praticamente la bella Sicilia, e adesso c'è tutta quanta la descrizione della Sicilia, ancora avrebbe i re angioini se non si fossero comportati male, soprattutto se, come spiegheremo oggi, si è deciso di far re chi non era destinato ad essere re, perché non era portato a fare questo. La bella Trinacria, la bella Sicilia coperta di caligine, caliga, tra Capopassero e Capofaro, Pacchino e Peloro. Insomma, sul golfo di Catania, che è maggiormente investito dal vento di Scirocco, che riceve da Euro maggior briga, non per il fumo e la caligine sbuffati da Tifeo, il gigante che starebbe, secondo la leggenda, sotto l'Etna, ma a causa delle emanazioni sul furee, il nascente solfo dell'Etna. Bene, insomma, come vedete, quattro versi per dire la bella Sicilia, attesi avrebbe i suoi regi ancora, avrebbe attesi ancora i suoi regi legittimi, discendenti, nati per me, attraverso me, da Carlo I d'Angio e da Rodolfo d'Absburgo, padre di sua madre. Insomma, la bella Trinacria avrebbe ancora i suoi re angioini. Se mala signoria, che sempre accora gli popoli soggetti, non avesse mosso Palermo a gridare mora, mora. Se il cattivo governo, il cattivo governo ovviamente degli angioini in Sicilia, che irrita, addolora, accora, nel verbo sono implicati due significati, gli animi dei popoli soggetti, dei sudditi, non avesse mosso, non avesse quindi provocato la popolazione di Palermo a ribellarsi, al grido di mora, mora. Muoia, muoia i francesi, muoiano i francesi, muoiano gli angioini. E' la sollevazione popolare dei vespe siciliani del marzo 1282. Un movimento spontaneo di popolo, reazione degli oltraggi ricevuti dai ministri angioini, esosi e tirannici. Del resto, noi che abbiamo letto La sposa Normanna, sappiamo bene che c'era un ottimo rapporto tra Federico II e Palermo. Era gente di Palermo. Perché in Federico II, vi ricordate quel romanzo? Quando era un ragazzino, un bambino, insomma, girava per Palermo, insomma, e conosceva tante famiglie, e c'era un ottimo rapporto. E Palermo era addirittura la capitale dell'impero sotto Federico II, no? Adesso invece arrivano gli angioini che eleggono Napoli come capitale e a Palermo chiedono solamente le tasse, tasse, tante tasse. E' chiaro quindi che questo crea questa sollevazione popolare. E se mio frate questo antivedesse, la vara povertà di Catalogna già fuggeria perché non gli offendesse. Se mio fratello Roberto D'Angio potesse fin d'ora comprendere, antivedere, vedere prima, valutare la vara povertà di Catalogna, quindi comprendere la conseguenza della malassignoria, insomma, che spinge i popoli alla rivolta, già allontanerebbe da sé, già fuggeria la vara povertà di Catalogna. Quindi attenzione, la vara povertà è complemento oggetto, non è soggetto, eh? Già allontanerebbe gli avari ministri di Catalogna perché non li offendesse, affinché con la loro esosità, rapacità, non recassero danno a lui, a lui indirettamente, ai popoli soggetti, assoggettati direttamente. Cioè, questi qua sono, diciamo, tra virgolette, gli esattori delle tasse, insomma, del regno che evidentemente vengono dalla Catalogna. Ebbene, questi esattori delle tasse sono molto esosi, molto avari, e quindi offendono il popolo indirettamente, offendono lui. Roberto D'Angio creano i presupposti perché ci siano ribellioni. Insomma, qui si fa riferimento anche a quanto avviene al fratello di Carlo D'Angio, Roberto D'Angio, che veramente provveder bisogna per lui o per altri, sicché a sua barca carcata più di incarco non si pogna. Perché è veramente necessario da parte sua, per lui è un francesismo, quanto mai opportuno, visto che si sta parlando di re francesi e di una dinastia francese, quella degli angioini, o per altrui, da parte di altri, insomma, provvedere affinché alla sua barca, al suo governo, già così carico di esosi e oneri fiscali, la sua barca carcata, caricata, appesantita, più di incarco non si ponga, non si sovrapponga altro peso di tassazioni, altro odio, altre estorsioni da parte, dicevamo, degli esattori catalani, e quei rapaci ministri, no? La sua natura che di larga parca discese avria mestiere di tal milizia che non curasse di mettere in arca. Che vuol dire? L'indore di Roberto D'Angio, che discese taccagna parca da antenati liberali e generosi, c'è, insomma, i nostri antenati erano nobili, erano grandi, erano quindi anche generosi, larghi, quindi magnanimi. Lui invece si sta dimostrando, anche a causa di questi ministri di cui si è circondato, questi esattori catalani, si sta dimostrando un po' taccagno, no? Quindi parca. Avria mestiere di tal milizia. Avrebbe invece bisogno di funzionari e ministri tali che non si preoccupassero soltanto di ammassare denaro nei loro forzieri in arca. Tal milizia avrebbe bisogno di ministri, insomma, ad esempio di esattori, che non si preoccupassero, non curasse di mettere in arca, di accumulare tesori su tesori nei loro scrigni. Ecco, adesso qui invece vediamo un'immagine bellissima. È un particolare di un affresco. Non so se siete andati a vedere il Duomo di Orvieto, dove ci sono questi bellissimi affreschi di Luca Signorelli. Tra i vari soggetti c'è anche quello di Dante, insomma, che è stato raffigurato da Luca Signorelli. Ho messo questo quadro come sfondo perché adesso risponde Dante, no? Cioè interrompe Dante il racconto di Carlo Martello. Però che io credo che l'alta letizia che il tuo parlarmi infonde, Signor mio, lave ogni ben si termina, si inizia, per te si veggia come la veggio, grata me più, e anche questo, caro, perché il discerni rimirando in Dio. Allora ha risposto già, se vogliamo, Carlo Martello, alla curiosità principale di Dante su chi è lui, no? Però è chiaro che raccontando le vicende sue e della sua famiglia ha suscitato in Dante tanta gioia, come vediamo qui, ma anche una domanda. Adesso cominciamo con la gioia, no? Però, chi credo? Dal momento che io credo che la profonda interiore letizia, l'alta letizia, altus in latino, infatti, significa anche profondo, che il tuo parlarmi infonde, che mi infonde il tuo discorso, il tuo racconto. O mio Signore, Signor mio, sia vista da te in Dio. Lave ogni ben si termina, si inizia, per te si veggia come la veggio. Quindi, se si possa vedere, sia vista, si veggia, da te, per te, in Dio. Principio e termine, fine e scopo di ogni bene, come, con la stessa chiarezza, con la quale io la vedo in me stesso. Sì, come la veggio. E anche questo, caro, perché il discendio è eliminato in Dio. E mi è gradito ancora questa gioia, questo accrescimento di gioia, perché lo distingui, lo vedi bene in Dio, in quanto tu sei beato. E, dicevamo, proprio la manifestazione della gioia di Dante, che è contento del racconto di Carlo Martello e si augura che sia vista questa profonda retizia anche da te in Dio. A questo punto, però, dicevamo, sorge il dubbio. ho messo questo busto di Solone perché è uno degli esempi che adesso saranno fatti da Carlo Martello per dire che uno deve fare ciò a cui è indirizzato. Voi lo sapete molto bene. Voi che state facendo orientamento universitario in questo periodo, test universitari, pretest, eccetera, e quindi dovete seguire la vostra inclinazione. Allora, al tempo di Dante si credeva che questa inclinazione venisse dagli astri e quindi era necessario per Dante assecondare questa inclinazione degli astri e non contrastarla. E questo viene fuori, però, da un dialogo che ha con quest'anima del terzo cielo, il cielo di Venere, cioè Carlo Martello. Fatto mai lieto e così mi fa chiaro. Cioè, mi hai già reso lieto, contento, no? Abbiamo visto nelle due terzine precedenti la gioia di Dante. E così mi fa chiaro, fammi chiaro. Allo stesso modo di come mi hai reso lieto, adesso fammi chiaro, cioè chiariscimi, poiché, parlando, a dubitarmi hai mosso dal momento che, con le tue parole, mi hai spinto, stimolato a dubitare come esser può di dolce e seme amaro. Com'è possibile che da un seme dolce possa generarsi un frutto amaro? È quasi una citazione evangelica, dal Vangelo secondo Matteo. Ogni buon albero fa buoni frutti, ma l'albero malvagio fa frutti cattivi, eccetera, eccetera. Insomma, tu prima, quando dicevi quella cosa, cioè che nella tua la sua natura che di larga parca discese, parlavi di tuo fratello, Roberto D'Angio, giusto? E hai detto che discende da una natura larga, quindi generosa, magnanima, ma si è fatta parca e si è reso un pochettino troppo avaro. Bene, allora io ti chiedo, come può essere di dolce e seme amaro? Metaforicamente ti chiedo, come può nascere da un seme dolce un frutto amaro? Di dolce e seme come esser può, come esser, fuori di metafora vorrebbe dire, come può essere nato Roberto D'Angio amaro, frutto amaro, in questo caso abbiamo detto avido, avaro, da un seme dolce che è quello, il seme della discendenza della, insomma, della stirpe D'Angioina. Questo io a lui, io dissi questo a Carlo Martello ed egli a me e Carlo Martello a me, se io posso mostrarti un vero a quel che tu dimandi, terrai lo viso come tiello d'osso. Se io riesco a dimostrarti una verità fondamentale, una verità importante, un vero a quel che tu dimandi, una verità insomma alla questione, alla domanda che mi proponi, vedrai chiara davanti a te questa questione così come ora le volgi le spalle, ora tienilo d'osso, cioè ora hai la verità alle tue spalle e quindi non puoi vederla bene. Adesso però io te la spiego e quindi la vedrai davanti a te. Chiara e semplice come si vedono le cose davanti. Terrai lo viso come tienilo d'osso abbiamo appena letto questo verso 96 ancora qui come all'inizio del canto un riferimento alla verità che compare come venere ora dietro la testa or da coppa or da ciglio vi ricordate era l'inizio dell'ottavo canto anche qua dice adesso vedrai la verità davanti a quella verità che invece tu adesso vedi di dietro tienilo d'osso lo ben che tutto il regno che tu scandi volge e contenta fa essere virtute sua provvedenza in questi corpi grandi che vuol dire il bene il bene di dio il bene sommo il bene supremo che volge e contenta che volge muove insomma e appaga contenta di sé i ceri il paradiso il regno che tu scandi il regno che tu stai salendo latinismo dal latino non è di un'altra classe non è di questa classe allora stavo dicendo che tu scandi cioè che tu sali il verbo scandare è un verbo latino insomma Dio che muove tutto del resto vedremo muove tutto l'universo e quindi soprattutto questo paradiso il regno che tu stai salendo fa essere virtute e sua provvedenza in questi corpi grandi fa sì che la sua provvidenza divenga in questi corpi celesti in questi pianeti in questi cieli virtù che possa influire sulla terra ecco qui la visione astronomica dei medievali di Dante degli antichi c'era Dio che muoveva gli astri e quindi gli astri che poi influenzavano la vita degli uomini nel modo migliore possibile secondo un disegno provvidenziale fa essere virtute sua provvedenza in questi corpi grandi cioè qua vediamo per esempio l'astro quindi noi sappiamo il pianeta di Venere e poi ce ne sono tanti altri le stelle le costellazioni eccetera e non pur le nature provvedute sono in la mente che è da sé perfetta ma essa insieme con la loro salute e nella mente divina perfetta in sé per sé non solo si provvede provvedute sono alle varie nature umane ma anche insieme con esse alla loro salute anche questo è una specie di latinismo se vogliamo salus salutis cioè la loro salvezza al fine cui sono ordinate cioè si provvede nella mente divina non solo all'essere delle nature umane ma anche alla realizzazione di queste nature al loro benessere se vogliamo e questo qui quasi cita testualmente San Tommaso che dice nella sua Somma Teologie Somma di Teologia nelle cose create si trova il bene non solo per quanto riguarda l'essenza delle cose ma anche per quanto riguarda l'ordine di essere rispetto al fine ultimo che è il bene divino perché quantunque quest'arco saetta disposto cade provveduto fine siccome cosa è il suo segno diretta adesso metaforicamente ci presenta la volontà di Dio insomma la virtù di questi cieli di questi astri eccetera come un arco per cui tutto ciò che quest'arco infonde sulla terra e sulle nature umane cade giunge colpisce arriva arriva a un provveduto fine a un fine determinato a suo scopo migliore siccome cosa il suo segno diretta proprio come una saetta che è diretta al suo bersaglio al suo segno e arriva e centra il bersaglio se ciò non fosse il cielo che tu cammini producerebbe sì i suoi effetti che non sarebbero arti ma ruine se le influenze celesti non fossero preordinate da Dio a un fine determinato i cieli che tu percorri produrrebbero i loro effetti in modo tale che questi non sarebbero cose prodotte con ragione come sono le arti ma cose disordinate rovinose le ruine e questo non è possibile ecco qui abbiamo iniziato con queste immagini di Solone di Cerse abbiamo iniziato a presentare alcuni degli esempi che adesso farà Carlo Martello e ciò a essere non può se gli intelletti che muovono queste stelle non sono manchi e manco il primo che non li ha perfetti e questo certamente non è possibile se gli intelletti sono insomma le intelligenze emotrici di questi cieli abbiamo visto che sono i principati nel cielo di Venere le stelle insomma non sono difettose manchi manchevoli difettosi difettosi loro è difettoso anche Dio e manco il primo che non li ha perfetti motore primo che in tal caso non li avrebbe creati interamente perfetti in modo da adempiere la loro funzione e quindi anche lui sarebbe in un certo senso difettoso ma è possibile che Dio sia difettoso no vuoi tu che questo ver più ti si imbianchi cioè vuoi desideri tu che questa verità questo principio cioè che le intelligenze celesti sono perfette così come Dio che le ha create ti sia chiarito ancora di più ti sia illuminato imbiancato nel senso illuminato e io non già che è impossibile il veggio che la natura in quel cuopo stanchi no certamente perché comprendo bene che è impossibile che la natura ordinata da Dio venga a mancare a trovarsi in difetto rispetto al fine necessario disposto e ordinato da Dio ecco qui invece stavolta un mosaico il particolare di un mosaico con il personaggio di Melchisedec ondelli ancora ordì sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse Cive attenzione praticamente Carlo Martello sta facendo un ragionamento di carattere tomistico insomma aristotelico se vogliamo con Dante quindi attraverso tutta una serie di riflessioni vuole portare Dante ad una conclusione e dice per esempio ordì sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse Cive non sarebbe un male per l'uomo sulla terra se non vivesse in una società si risposio e qui ragionano che è logico che sarebbe peggio per l'uomo se non fosse se non vivesse in una società con delle leggi civili siete d'accordo anche voi sarebbe peggio senza altro e poterli esser se giù non si vive diversamente per diversi uffici allora dice Dante giustifica la società la organizzazione sociale e la divisione in compiti in compiti diversi in magistratura diverse diciamo così è possibile insomma che ci sia una società se non c'è una suddivisione dei poteri non se il maestro vostro ben vi scrive ma certamente non è possibile se scrive bene il maestro ma qual è il maestro l'ipsedixit per i medievali se Aristotele ovviamente nella politica in particolar modo spiega che ci sono diversi uffici e diversi fini a uno solo fine ordinati questo brano della politica citato dalla stessa Dante nel convivio no quindi certamente sarebbe il peggio se non fosse cive è qui riproposta la teoria aristotelica per cui l'uomo è un animale sociale è fatto per vivere in armonica civile convivenza con i suoi simili in base però ad una divisione di poteri le leggi eccetera eccetera si venne deducendo infino a quici poscia conchiuse quindi così si venne ragionando disponendo i ragionamenti l'uno dietro l'altro fino ad arrivare a questo punto dunque essere diverse conviene di vostri effetti le radici dunque è necessario che siano diverse le attitudini naturali le radici dei vostri diversi uffici no c'è dietro insomma il lavoro che uno fa il compito che uno svolge c'è una radice quindi un'attitudine che uno deve semplicemente assecondare per cui uno nasce Solone altro Selse altro Melchisedec e altro quello che volando per l'aere è figlio Perse ecco avete capito adesso perché vi ho fatto vedere il busto di Solone l'immagine di Selse tratta dal film 300 o questo mosaico con Melchisedec insomma è chiaro che ognuno ha un'attitudine diversa per cui uno nasce legislatore come Solone famoso legislatore atenese un altro nasce generale come Cerse il famoso imperatore persiano che fu anche dicevamo generale e comandante in guerra l'altro sacerdote come Melchisedec famosissimo sacerdote di cui si parla nella Bibbia e altro quello che volando per l'aere il figlio Perse e altro invece con attitudini di ingegnere molti fra voi andranno a fare ingegneria esattamente come Dedalo che è colui che perse il figlio volando per l'aere perse Ica perché perché lui invece Icaro andò a volare troppo vicino al sole come ben sapete nel mito insomma ecco il motivo per cui ognuno nasce con una disposizione naturale diversa dall'altra qui abbiamo invece un quadro di Rubens sulla riconciliazione di Giacobbe ed Esau perché adesso Carlo Martello farà riferimento proprio ad Esau la circolar natura che suggello alla cera mortal fa ben sua arte che vuol dire quindi la virtù dei cieli rotanti le cui influenze imprimono negli uomini come sigillo nella cera le varie attitudini adempie bene il suo ufficio ma non distingue l'un dall'altro stello ma non distingue una casa dall'altra una famiglia dall'altra quindi cosa succede succede che Dio vuole che una persona magari faccia che ne so il sacerdote qual è il problema però che magari capita che questa predisposizione naturale a fare il legislatore oppure il sacerdote eccetera o l'ingegnere capita che questo venga ad uno di una stirpe regale cioè di una discendenza di re e allora a tutti i costi gli uomini cosa fanno lo fanno diventare re come Roberto d'Angio perché lui appartiene alla dinastia degli angioini ma Roberto d'Angio non era fatto per fare il re insomma non era destinato a questo e noi siamo cocciuti certe volte noi uomini quando a tutti i costi vogliamo far diventare re uno che invece sarebbe predisposto naturalmente a fare altro qui ci addiviene che Esaussi di parte per seme da Jacob di qui accade che Esaú figlio di Isacco si differenzia si allontana fin dal primo concepimento per quest'indole infusa dai cieli il seme si diparte si differenzia dal fratello Giacobbe sempre Dante nel convivio scrive quando l'umano seme cade nella matrice esso porta seco la virtù del cielo quindi Esaú è ben diverso da Giacobbe ecco il quadro di Rubens sono tutti e due figli di Isacco ma Esaú pensa solamente a riempire il suo ventre il suo stomaco e Giacobbe invece è lui predestinato ad essere a portare avanti il progetto di Isacco solo che Esaú è il primo genito ma non c'è problema Giacobbe gli dice senti dammi la tua primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie Esaú che è goloso dice no no dammi il piatto di lenticchie non so che farmene della primogenitura è così insomma sapete un episodio biblico famoso e viene Quirino da civil padre che si rende a Marte e Romolo nasce da un padre così oscuro che la storia o meglio la leggenda ha cancellato il nome di suo padre e ha fatto sì che il padre di Quirino diventasse diventasse Marte ha dato a Marte la paternità di Romolo dal momento che suo padre era insomma secondo alcune versioni ovviamente del mito era un po' inetto incapace vil padre di un po' Grazie.